Buonasera a Chiara Loprieno dell'azienda Subitalia, complimenti per aver vinto questo premio. Che cosa significa per voi partecipare a un evento così importante come i posti di Business Awards? È un'occasione d'oro per sottolineare come la positività possa fare la differenza in tutti gli ambiti e in primis l'azienda per cui e in cui si lavora. E siamo particolarmente orgogliosi di questo premio perché viene dato a un'iniziativa come Rarementi che quest'anno più che mai ha voluto parlare di rarità, di malattie rare e di straordinarietà della rarità ma in modo molto positivo facendo capire che dietro anche alle sfide più grandi ci può essere uno slancio positivo un ottimismo e una forza probabilmente anche impensata che invece fa superare gli ostacoli. Cosa vi ha spinto a partecipare a un evento così importante? Provare a portare le malattie rare in contesti come questo. Con il sorriso. Esatto, sì, senza spaventare perché obiettivamente si parla di malattie ma non dobbiamo fare paura e allo stesso tempo per cercare di far capire che dietro l'apparenza delle persone c'è tanto altro, c'è una ricchezza. Quindi ottima comunicazione, no? Ottima comunicazione, un grande team che ci ha lavorato anche esterno all'azienda e devo dire le persone sono il frutto di tutto. Allora ve lo siete meritati? Direi di sì. Grazie e a presto. Complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.